Sarà nuovamente sul palco dell'Ariston a febbraio, ancora a Sanremo. È al cinema in Benvenuti al Nord, sequel del successo Benvenuti al Sud. Nella pellicola Emma Marrone, Sarentina Doc, canta nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, suo conterraneo. Non solo, fa pure l'attrice. L'esperienza sul set le è piaciuta, sintonia con tutti, molto carini e affettuosi con lei. Si è sentita a suo agio. Al photocall del film, invece no. Emma è un tipo schivo, l'ha dimostrato più volte anche nel talent Amici, in cui ha trionfato. Si lascia fotografare a fatica con il resto del cast, coccolata da Alessandro Siani e Claudio Bisio. Devono quasi trattenerla a forza.